Con quello che sta succedendo in giro per il mondo, esiste una piccola possibilità che finiamo tutti per vagare in giro come in The Walking Dead. Perdersi nella natura durante una semplice passeggiata nel bosco senza alcuno strumento d'aiuto immediato potrebbe essere più facile di quanto tu possa mai pensare. Nel caso ti capitasse di ritrovarti in questa difficile situazione, prima di tutto, non imbanicarti. Cerca invece di ricordarti questi trucchi che potrebbero finire per salvarti la vita. Numero 1. Costruire un riparo. Nel caso tu abbia deciso di startene fermo per un po' mentre stai aspettando i soccorsi, avrai sicuramente bisogno di un riparo decente e robusto per poter stare al sicuro durante le interperie, anche e soprattutto da animali salvatici. L'ultima cosa che vuoi fare è passare le importantissime ore di luce ad urlare nel panico dovendo poi passare la notte sul suolo della foresta aspettando che qualcuno ti mangi. Questo è assolutamente da evitare proprio perché andrebbe ad aumentare incredibilmente il rischio di essere colpiti da ipotermia. Non importa che tipo di riparo tu stia cercando, il punto principale rimane quello di posizionarti in un luogo elevato rispetto al terreno per dormire. Per fare questo vi basterà semplicemente posizionare dei tronchi per poi posizionare su di essi altri tronchi più lunghi, sui quali quindi aggiungere dei rami con delle foglie per dormirci sopra, così da aumentare le possibilità di sopravvivenza. Inoltre indossa tutti gli indumenti che possiedi e imbottisci lo spazio tra di essi usando foglie e arbusti, così da avere il massimo effetto isolante possibile. Numero 2. Trovare acqua potabile. Il corpo umano riesce a resistere per ben oltre 21 giorni senza mangiare, ma può sopportare solamente 3 o 4 giorni senza l'essenziale acqua. Quindi trovarne un po' sarà uno dei punti principali a cui dovrei fare attenzione. Al contrario di quanto comunemente accettato, bere la propria urina non è qualcosa di molto consigliabile, poiché potrebbe portare ad altri problemi di salute, oltre che ad ulteriore disidratazione. Bere urina equivale al bere acqua di mare. I nostri reni filtrono il 5% di scarti, quindi ingerirla nuovamente richiederebbe uno sforzo enorme da parte dei reni, che dovrebbero ora lavorare il doppio per filtrare nuovamente le sostanze ingerite, causando così il deterioramento degli organi coinvolti. Se per caso la prossima fonte d'acqua che si sta cercando di raggiungere si trova all'interno di un cactus in mezzo al deserto, allora dovresti prima considerare i rischi che questo comporterebbe per la tua salute. Infatti i cactus proteggono le proprie interiore con una speciale sostanza tossica per l'uomo, che se ingerita potrebbe causare vomito, diarrea e disidratazione. Quindi dove cavolo dovresti andare per trovare una fonte d'acqua potabile senza la presenza di aghi o fiumi nelle vicinanze? Eh, questo è difficile. Numero 3. Pensa verde. Il modo migliore per raggiungere il tuo fabbisogno giornaliero d'acqua consiste in due semplici oggetti, una busta di plastica e un albero che riceve una buona quantità di luce solare durante la giornata. A questo punto passerà avvolgere la parte più verde dell'albero con della busta e aspettare che la natura faccia il suo lavoro. Il sole forzerà l'acqua contenuta nelle foglie ad evaporare, bloccando così l'umidità all'interno della busta, che potrà poi essere tagliata per ricavarci dell'acqua potabile che servirà per sopravvivere. Un altro metodo molto efficace per ricavare acqua senza una fonte visibile e consistente è semplicemente quello di avvolgere vestiti e erbacce intorno alle proprie caviglie, per poi andare a farci una passeggiata prima di sera. Infatti camminando in una zona che presenta una grande quantità di erba alta, ancora coperta da uno strato di brina, potrebbe aiutare a raccogliere una buona quantità d'acqua, che potrebbe poi essere travisata in un bicchiere. Eseguendo più volte questo metodo, i nativi australiani riuscirono a collezionare fino a un litro d'acqua all'ora. Inoltre bisogna anche prestare una certa attenzione ad alcune api o altri insetti che si aggirano intorno a buchi sostanziosi nei tronchi, poiché potrebbero comportare un'altra fonte d'acqua. In questo caso basterà avvolgere un capo abbastanza assorbente per poi strofinarlo nel conseguente buco così da recuperare l'acqua potabile. Numero 4. Accendere un fuoco Il fuoco è forse stata una delle scoperte più importanti dell'intera umanità e soprattutto mentre si è persi nella natura potrebbe essere una delle risorse più importanti su cui fare affidamento. Tenendo conto che non si hanno a portata di mano né accendino e né pacchetti di fiammiferi, ci sono diversi modi con cui generare un fuoco e tenerlo alimentato così da poter preparare cibo e riscaldarsi. Il classico fuoco da sfregamento tra due rametti estremamente secchi è una base di altri rametti secchi richiede un'estrema abilità e pazienza. Creare un fuoco utilizzando una lente di ingrandimento e degli occhiali sono i metodi invece alquanto effettivi che utilizzano la potenza della luce solare. Se non si ha accesso a degli occhiali o nessuna lente, un palloncino o un preservativo riempito d'acqua potrebbero essere usati come lente a loro volta. Se ci si trova in una zona estremamente fredda addirittura il ghiaccio potrebbe essere usato come lente. Nel caso invece non si abbia idea sul come mantenere la fiamma viva esistono moltissimi oggetti quotidiani che si rivelano essere estremamente utili in questo caso, dalle patatine come le Doritos ai calzini fino ai disinfettanti a base di alcol. Infine anche la spugna presente nelle maniglie degli zaini sono estremamente infiammabili. Nel caso non si abbia nessuno di questi strumenti a portata di mano, ma se hanno invece delle pile o della carta stagnola che solitamente avvolge la gomma da masticare, vi basterà semplicemente attaccare la carta alle due estremità della pila e la carta prenderà magicamente fuoco all'istante. Numero 5. Segnali d'aiuto Una volta che siete riusciti a padroneggiare il fuoco, sarà anche il momento di creare un segnale d'aiuto efficace, così da ridurre al minimo il periodo speso in mezzo alla natura e aiutare i soccorsi a ritrovarvi. In primis bisogna perlustrare l'area per trovare una zona rialzata come una collina o una cascata abbastanza isolata, così da evitare il rischio di possibili incendi. I migliori segnali d'aiuto hanno bisogno di enormi quantità di fumo per poter essere così poi notati, quindi bisognerà raccogliere quanti più rametti, patatine e oggetti gommosi possibili, poiché questi ultimi sprigionano grandi quantità di fumo scuro. Ora bisognerà coprire il fuoco con una coperta o un grande ramoscello per circa 3 o 4 secondi, ad intervalli regolari, così che il fumo possa accumularsi per poi essere rilasciato come una vera e propria nuvola nera. Solitamente basterà una nuvoletta per far sì che qualcuno chiami i soccorsi, 2 per indicare che ci si trova in ottime condizioni, mentre 3 indicano un'emergenza. Numero 6. Rimanere idratati. Con alcuni pochi strumenti si potrà anche facilmente prendere e depurare l'acqua dei fiumi per poi berla senza nessun pensiero. L'unica cosa che servirà per questa operazione sarà una semplice bottiglia di plastica tagliata in due pezzi. In questo modo si avranno a disposizione una parte che servirà per il filtraggio e un'altra che invece verrà utilizzata per la bollitura. Per prima cosa bisognerà fare dei buchi sul tappo della bottiglia per poi riempire la metà superiore con muschio, erba e piccole pietre, e ancora meglio, della sabbia fine. Tutto ciò servirà ad eseguire un primo filtraggio dell'acqua, togliendo così alcune impurità da essa. Poi basterà semplicemente bollire quest'acqua per poter poi finalmente berla. Bisognerà però fare un accorgimento sui possibili utilizzi della bottiglia poiché il calore potrebbe indurre la plastica a rilasciare agenti nocivi nell'acqua stessa. Numero 7. Repellente per insetti. Se ti trovi nella natura incontaminata, sicuramente devi prestare attenzione alla possibilità di essere assalito da orde di zanzare, pronte a pugnalare la tua pelle durante il sonno. Nel caso in cui tu ti sia dimenticato lo spray repellente, esiste un semplice rimedio per tenere lontano queste fastidiose creaturine. Infatti basterà trovare un pino e spalmarsi addosso gli oli che sono contenuti nei piccoli rametti dell'albero. Inoltre, se bruciato, aiuterà anche a tenere lontano le zanzare ed altri insetti. Numero 8. In cerca di cibo. Quando si è dispersi per la natura, prima ancora dei soccorsi, è molto probabile che arriverà una cosa chiamata fame. Quindi, tenendo conto che il creare delle armi per cacciare da zero è un po' una cosa fuori discussione e non vi sono sicuramente animali facili da cacciare, bisognerà ricorrere al buon occhio. Infatti, è abbastanza semplice trovare buone dosi di cibo semplicemente spostando qualche tronco per terra. Questo, infatti, vi permetterà di scovare e cibarvi di quello che trovate sotto questi alberi. La maggior parte di questi insetti sarà commestibile e forniranno anche degli ottimi valori nutrizionali. Da evitare però zecche, mosche e ragni che potrebbero contenere sostanze nocive, oltre al fatto che sono tutte creature poco appetitose. Sugli alberi, invece, possono trovarsi alcune bacche facilmente riconoscibili, come la mora, i mirtilli e l'uva spina. Generalmente, qualsiasi tipo di bacche bianche sono tossiche per l'uomo, quindi bisogna evitarle. Per quanto riguarda i funghi, invece, vi è una semplice regola che categorizza come commestibili solamente i funghi di colore bianco o marrone, ma mai nessuno con branchie bianche o con la testa rossa, poiché potenzialmente mortali. Numero 9. Orientarsi Nel caso in cui sai che i soccorsi non possono o probabilmente non riusciranno a raggiungere la posizione designata, sarà meglio spostarsi. Quindi come fare senza l'aiuto di un teneforo connesso a Google Maps col GPS o di una bussola? Ci sono diversi modi per orientarsi nella natura. Per sfortuna, il muschio non cresce solamente nella zona a nord degli alberi ed aspettare che il sole cali ed oves potrebbe rivelarsi una grande perdita di tempo. Nessun problema però se si dispone di un semplice orologio analogico. Basterà infatti utilizzare la posizione del sole e un po' di calcoli approssimativi per sapere dove bisogna andare. Basterà infatti allineare la lancetta delle ore verso il sole, per poi tracciare una linea esattamente a metà tra la lancetta delle ore e il numero 12 sull'orologio. In questo modo si troverà il sud tra le due lancette, mentre per l'emisfero opposto vi basterà semplicemente puntare la posizione del numero 12 verso il sole e calcolare quindi il punto centrale che questa volta indicherà il nord. Numero 10. Trucchi per lo smartphone. Nel caso si abbia uno smartphone a portata di mano, si può eventualmente smantellare il dispositivo così da creare un proprio kit di sopravvivenza. Infatti lo schermo può essere usato per mandare segnali. I chip al suo interno possono essere affilati per poi essere usati come coltelli. Inoltre vi è presente anche un piccolo magnete dietro alle casse, molto utile se abbinato ad un qualsiasi piccolo pezzo di metallo come ad esempio un ago, per poter quindi creare una bussola. Infatti basterà strofinare il ferro sul magnete per poi appoggiarlo su una foglia, sopra una piccola pozzanghera e automaticamente il ferretto si allineerà con l'asse magnetico terrestre. Solitamente l'estremità più vicina al sole indicherà il sud, mentre invece se ci si trova nell'emisfero sud questo indicherà il nord. Numero 11. Fuggire dalle sabbie mobili. Le sabbie mobili non sono presenti solamente nel deserto come ci fanno credere i film. Infatti potresti benissimo incappare in una piccola pozzanghera di sabbie mobili mentre stai facendo una piccola passeggiata o escursione nella natura proprio dietro casa per poi bloccarti in delle sabbie che ingottiranno tutto ciò che ci mette i piedi dentro. Come prima cosa c'è da agire velocemente e da alleggerirsi il più possibile. Quindi bisogna levarsi ogni zaino o indumento pesante che si ha addosso. Il corpo umano è meno denso della sabbia, quindi bisognerà semplicemente muoversi molto lentamente per far sì che non si venga completamente inghiottiti. Per perdere la morsa della sabbia basterà allargare le gambe per poi stendersi sul dorso ed iniziare quindi a nuotare fino all'auto delle sabbie mobili per poi uscirne fuori sani e salvi. Spero che questi trucchi vi siano utili nei prossimi mesi, anzi speriamo che non vi servano affatto. Comunque sia lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto o non mi piace se invece non vi è piaciuto. Iscrivetevi se siete nuovi al canale, attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessuno dei futuri video. Fate un giro sul canale Telegram per gli sconti Amazon che ce ne sono a migliaia e sono completamente gratuiti. E noi come sempre ci vediamo nel prossimo. Nel frattempo infatti se volete potete guardare uno di questi video a schermo che sicuramente vi piaceranno.